Buongiorno, grazie dell'invito e auguri della parte dei compagni anticapitalistas della Catalogna e dell'insieme dello Stato spagnolo. Allora, soltanto qualche idea molto generale per commentare un po' sul centenario d'ottobre e poi entro nella questione catalana, diciamo. Credo che dopo le sconfitte del Novecento ci sono qualche considerazione più o meno generale che immagino che dopo Franco parlerà e credo che l'elezione, in particolare le sconfitte nel caso sovietico, è che non c'è socialismo senza democrazia e pluralismo e non c'è possibilità di una vera democrazia senza socialismo, cioè senza eguaglianza sociale per esercitare a una vera democrazia. In secondo luogo, credo che per rompere questa confusione tra comunismo e stalinismo a livello di massa, avevamo anche bisogno di una riflessione più generale sulla questione della democrazia e anche del pluralismo. Da questo punto di vista credo che questo bisogno è legato a problemi molto attuali, per esempio tutta la questione di partiti democratici, partiti pluralisti, libertà di dibattito e rischio di dinamiche autoritarie, carismatiche, eccetera, sono molto presenti anche nella detta nuova politica. Credo che sia importante non dimenticarlo. Poi, peraltro, credo che dobbiamo capire il rapporto tra sfruttamento capitalistico e oppressioni specifiche, cioè oppressione di genero, di razza nazionale, religiosa, eccetera, e riconoscere il fatto che la ricostruzione di un soggetto di trasformazione sociale non è soltanto una questione sociologica, è piuttosto un compito strategico di capire che dovevamo mettere insieme tutti i pezzi di questa società atomizzata, trencata, isolata, eccetera. E per quello dovevamo capire le logiche delle intersezioni di tutte queste opzioni specifiche e qual è il rapporto con lo sfruttamento capitalistico. Allora, per esempio catalano è, credo, un caso di oppressione nazionale e voglio parlare un po' di questo caso concreto. Infatti per ritornare a Lenin, lui insisteva tantissimo che i comunisti non sono esattamente dei sindacalisti corporativi ma piuttosto dei tribuni del popolo che partecipano non soltanto alla lotta economica ma anche alla lotta politica in tutti i domini e contro tutte le forme di ingiustizia e di oppressione, non soltanto lo sfruttamento capitalistico. E credo che il caso catalano va bene per discutere sul ruolo dei comunisti e del movimento operaio nelle oppressioni che non sono direttamente legate allo sfruttamento capitalistico e vanno al di là. Allora, ovviamente Puigdemont non è Lenin, purtroppo, Bruxelles non è Finlandia ma credo che il casino che c'è nella Catalogna e nell'insieme dell'Espagna non è peraltro una batalla simbolica. C'è un vero conflitto politico molto importante e forse sia la crisi politica la più importante dalla fine della transizione politica post-franchista. Allora, vorrebbe, perché credo che per un pubblico, il pubblico italiano, anche il pubblico francese è difficile capire un po' le radici storiche di questo conflitto, vorrei fare un piccolo percorso storico per spiegare un po' che questo non è un'invenzione di qualche populisti di destra che inventano regioni o nazioni inesistenti, ma che ha delle forze radici storiche. Allora, quelle radici hanno a vedere con il fatto che nella Spagna non ha mai vinto una vera rivoluzione democratica. Non ha mai vinto una vera rivoluzione democratica. Gramsci parlava della rivoluzione passiva qui col risorgimento, ma nella Spagna il problema è che tutte le vere rivoluzioni democratiche sono state sconfitte. Perché la questione nazionale? Perché non c'è un'identità nazionale spagnola omogenea come c'è in Francia o comunque qui in Italia. Il fatto è che forse la Catalogna sia l'unico territorio della monarchia ispanica che ha resistito l'assolutismo all'inizio dell'Ottocento, del Settecento, scusa, dell'Ottocento. E' l'unica zona che aveva cominciato una rivoluzione industriale e questo unito al fatto che la monarchia ispanica fino all'inizio dell'Ottocento non era una nazione nel senso unificata, ma una monarchia con diversi regni, con istituzioni, leggi e lingue diverse. E era così fino alla guerra di successione dove la monarchia borbonica ha vinto e ha imposto un assolutismo calcato dal modello francese e distrutto tutte le istituzioni previe a questa forma di governo. Allora, alla differenza della Francia, i liberali spagnoli non sono stati sostenuti da una rivoluzione contadina. Questo è molto importante e credo che sia un caso molto simile qui in Italia. E la condivisione della terra non ha mai arrivato. Infatto il programma dei liberali spagnoli era proprio quello inglese, della privatizzare la proprietà e fare ancora una condivisione più ingiusta della proprietà e creare una base dei proprietari terrieri, mezzo capitalista, mezzo proveniente dell'ancien regime. E quello spiega anche il fatto che una parte dei contadini hanno sostenuto gli ultrimontani, i cardisti, gli assolutisti, contro la borghesia liberale. Peraltro la borghesia catalana, la più dinamica dello Stato spagnolo all'epoca, viene alla differenza di quella piemontese del risorgimento, ha venuto emarginata del potere politico esercito da Madrid, dai liberali, piuttosto tutti generali, militari. Allora, il liberalismo spagnolo è un liberalismo militarista. E questo è uno dei problemi, senza una base sociale, borghese, industriale, chiara. Allora, il suo sostegno è questa classe di proprietari terrieri e un'oligarchia finanziaria. Ma non c'è una borghesia industriale come qui con la borghesia piemontese. Poi, l'altro elemento è che la dinamica dello sviluppo del movimento operaio nella Catalogna, molto radicale, spiega una dinamica ripressiva dalla parte dell'esercito spagnolo, molto forte, una dinamica di Stato marciale, tantissime volte nell'Ottocento, che ha ancora approfondizzato questa divisione, questa differenziazione della borghesia catalana per rapporto ai liberali di Madrid, che avevano all'epoca il monopolio del potere politico. E spiega anche l'apoliticismo della classe operaia e l'egemonia anarchica alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, del proletariato catalano. Poi, la sconfitta della Prima Repubblica all'epoca della Comune di Parigi è l'ultima opportunità dove c'era una classe politica ripubblicana catalana nel potere centrale di Madrid. E da quel momento, con la sconfitta della Prima Repubblica, la classe politica catalana si è fermata nella Catalogna e ha abbandonato il progetto di trasformare l'insieme della Spagna e ha lottato per un'autonomia politica e la recuperazione delle istituzioni storiche di prima dell'epoca assolutista. Allora, la ristorazione borbonica alla fine dell'Ottocento, fino alla Seconda Repubblica, ha avuto tantissime crisi, in primo luogo le sconfitte militari coloniali, Cuba, Filippinas, anche Marocco. Poi, lo sviluppo elettorale del catalanismo politico, il primo catalanismo forte è di centrodestra, liberale e conservatore, ma comunque non era schierato con i partiti della monarchia, quello liberale e conservatore. Poi c'è l'origine, anche nella Catalogna, del repubblicanismo spagnolo moderno, che anche ha creato una crisi politica a questo livello. E poi la radicalità del movimento operario, forse con Turino, Petroborgo, Parigi, Barcellona, è la città con una lunghissima tradizione insurrezionale. 1909, 1917, 1918, 1919, l'anarchismo, la fenetè, l'origine del comunismo, lì, eccetera. Poi, la Seconda Repubblica, infatti, l'unico nazionalismo spagnolo riformista, progressista dell'istoria, e quello repubblicano, dell'epoca la Seconda Repubblica, lì, nella Catalogna, c'è un'egemonia che, nel nazionalismo, che gira dalla destra al centro e poi dal centro a sinistra, e con una vera dinamica di rivoluzione permanente, nel senso che c'è un disbordamento, un scavalcamento di queste classi sociali, perché c'è un legame tra lotta nazionale e lotta di classe, e un rapporto di collaborazione e competenza tra nazionalismo e movimento operaio. Allora, come va? Primo, c'è la crisi del nazionalismo borghese tra 1910 e 1931, anche perché una parte della borghesia industriale ha sostenuto il copplo di Stato di Primo dei Rivera, nel 1923, dopo la marcia su Roma di Mussolini. Poi c'è l'ascesa della piccola borghesia nazionalista, Esquerra Repubblicana di Cataluña, che è il partito egemonico nella Cataluña della Seconda Repubblica. Perché? Perché c'è la sintesi tra il catalanismo politico di sinistra e il ripubblicanismo. E questa sintesi spiega questo esito del centro-sinistra piccolo borghese nazionalista. E poi c'è l'ascesa del proletariato rivoluzionario, la CNT, POUM, eccetera. Loro hanno preso l'egemonia politica tra il 34, la crisi del 34, e poi la rivoluzione, fino alla sconfitta del 37, quando c'è il proletariato riformista e la piccola borghesia antifascista rappresentata dal partito del PSUC, il partito socialista unificato della Catalogna, legato col PC, chi prende la direzione politica. Allora, come sapete, la dittatura fascista e franchista fa che tutti i movimenti nazionalisti, quello basco-catalano, eccetera, diventano radicalizzati alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70. Poi, per capire, credo, il quadro oggi, dobbiamo fare qualche riferimento alla transizione post-franchista. In primo luogo perché tutta l'opposizione moderata, partito comunista, partito socialista, hanno avuto delle trattative con i franchisti per il cambiamento del regime. Non c'è un crollo della dittatura e questo è molto importante perché non c'è una epurazione dell'apparato del Stato e ci sono tanti elementi franchisti nell'apparato. L'amnistia politica era proprio per i franchisti, era appunto per loro. Poi c'è la questione del sostegno alla monarchia e si rinuncia al referendum sulla forma del Stato, sulla Repubblica. Poi c'è il fatto dell'egemonia dell'ETA a Oskadi e lì non viene approvata la Costituzione, è rifiutata. E poi il diritto d'autodecisione è il primo elemento di tutti i programmi delle sinistre che diventa dimendicato perché è la condizione dell'armata per negoziare la transizione dell'esercito. E poi ci sono i patti della Moncloa dove si dice la consolidazione della democrazia accettando i diritti politici ma in ritorno si perdono i diritti sociali. E la classe operaia che era all'avanguardia della lotta contro la dittatura è quella classe che in democrazia perde posizioni. Allora la crisi attuale non si capita senza la crisi mondiale, la crisi economica, poi la ricostruzione del nazionalismo spagnolo col premier Aznar, in particolare il secondo mandato di Aznar, poi senza la fine di ETA, senza la fine del terrorismo, perché la questione del terrorismo era molto utile per creare un ambiente, diciamo, possiamo dire, magartista. E poi lo scoppio del 15M, gli indignati e la sconfitta del progetto di riforma dello statuto catalano nell'anno 2006, quello spiega l'ascesa del sentimento indipendentista. Ok, non volete riformare di una forma costituzionale, eccetera, allora partiamo. Questa è un po', diciamo, l'illusione, credo, del nazionalismo. E più in generale c'è la crisi di tutto il regime politico del 78, perché c'è la corruzione, la critica della monarchia, c'è il potere giudiziario controllato dai partiti, anche della corruzione, movimento indipendentista di massa nella Catalogna, debuto a questa combinazione così strana e particolare di questioni, di crisi. Allora, l'indipendentismo, per finire, c'è una crisi del nazionalismo borghese, che ha gestito la vita politica catalana dalla fine della dittatura. C'è della corruzione e c'è un problema di crisi di tutto il sistema politico. Poi aveva bisogno di un relato politico per i ceti mezzi della società catalana, che non sia quello degli indignati. Allora, era un bisogno politico avere un relato sulla crisi del regime, sulla crisi economica, che non sia soltanto quello pleveo del 15M. Poi c'è la petizione di un referendum trattativo con lo Stato, che viene rifutato ogni volta. Poi c'è l'apparizione della CUP, e questo è molto importante. La CUP, la sinistra indipendentista, o l'estrema sinistra indipendentista, entra nel Parlamento fa 4-5 anni. E poi, a livello sociale, per fare riferimento alla composizione di classe del movimento indipendentista, e in particolare un movimento di ceti mezzi. L'alta borghesia è contro, perché è monarchica, molto conservatrici, e il movimento operaio e le casse operaie sono divise. C'è una parte, i contadini, una parte di funzionari, che sono insegnanti, dottori, eccetera, che sono col movimento indipendentista, e anche con un'illusione un po' naif sulla natura dello Stato spagnolo, la natura dell'Unione Europea in particolare, che adesso credo che questa illusione si sono dimenticate, ma c'è un problema strategico, è appunto questo, la divisione dei ceti popolari. E questo è un problema per gli anticapitalisti, è un problema oggettivo. Allora, il casino adesso, qualche riferimento a quello che è avvenuto nelle ultime settimane. La ripressione è molto forte, e quello spiega bene la natura autoritaria dello Stato spagnolo. Il successo del referendum dell'1 ottobre ha molto a vedere con la pressione del movimento di massa. su il governo della Generalità, in particolare ANC, Omnium, ma molto di più questi comitati in difesa dei referendum che si sono sviluppati per difendere i centri di voto, le scuole, eccetera. E questi comitati hanno una dinamica, potremmo dire, potrebbe dire sovietica, nei quartieri, nei paesi, ci sono oltre una centinaia. E' una dinamica di centralizzazione politica, e sono molto dinamiche. E la composizione sociale è molto più popolare che nel movimento indipendentista finora. Adesso c'è una componente popolare giovanile molto più forte e molto più attivista. Poi, questa dichiarazione di unità di indipendenza era molto simbolica. Non esisteva una volontà di confronto reale col potere dello Stato. La questione del potere non si porreva di una forma chiara perché non si può risolvere il senso forte. Ma comunque c'è una crisi politica enorme. In primo luogo perché la monarchia ha apparito come minacciando i catalani. Questo è molto importante perché il ruolo, diciamo, bonapartista giocato dalla monarchia dalla fine del franchismo è molto importante. Allora, credo che sia un'istituzione in crisi adesso. Poi c'è questo tripartito monarchico che è l'unica formula di governo per gestire il sistema politico spagnolo adesso. E quello lo fa molto più fragile perché c'è un quadro di erosione e crisi molto forte nel partito socialista che è appunto il partito proprio del regime, è più identificato col regime. E poi questo articolo della Costituzione 155 che permette prendere controllo, intervenire l'autonomia regionale può essere applicato al di là della Catalogna, contro i baschi, Navarra e forse Castiglia-la-Mancia perché c'è Podemos nel governo con i socialisti e questo non piace al partito popolare, eccetera. Allora, c'è un vero pericolo di involuzione politica generale nell'insieme della Spagna. Allora, questa crisi va molto al di là del conflitto nazionale catalano. E poi ci sono oltre 700 sindaci che devono andare davanti ai giudici per il suo sostegno al referendum. E poi la metà del governo catalano in prigione, l'altra metà in esilio. Allora, per finire, come sapete avevamo elezioni imposte dal governo di Madrid il 21 dicembre e inizialmente mi pareva come un'iniziativa molto audace dalla parte di Rajoy ma con questo imprigionamento del governo c'è ancora un altro nuovo casino dopo qualche giorno di un po' di moralizzazione tra il movimento indipendentista diciamo o antirepressivo perché va molto al di là dell'indipendentismo nel mio avviso. adesso c'è un'altra possibilità di fare una sorta di plebiscito tra sostegno alle forze che applicano il 155, cioè PP, Ciudadanos, PSOE o sostegno a tutte le forze che sono per l'autodecisione della Catalogna e per la Repubblica nel senso più largo dell'idea. Allora, ritomando per finire, ritomando Lenin lui diceva, forse non so qual è la definizione diciamo dogmatica meglio migliore per definire che cosa è una nazione comunque come siamo democratici diciamo se c'è una maggioranza della popolazione che pensa che c'è una nazione non c'è discussione e nel caso della Catalogna l'80% della popolazione crede che la Catalogna è una nazione e ha diritto a decidere il suo rapporto con l'insieme della Spagna. Come comunisti rivoluzionari forse l'unione è meglio perché uno stato grande fa più facile costruire il socialismo ma l'unione deve essere con libertà e se non c'è libertà forse c'è il diritto di separazione peraltro credo che i compiti seguendo questa citazione di Lenin noi i compiti dei comunisti era nella nazione che opprime l'altra a difendere il diritto d'autodecisione come hanno fatto in generale in generale Podemos ma di una forma molto più diciamo audace i nostri compagni di anticapitalista e nella nella nazione oppresa il ruolo dei comunisti è di enfasizzare l'importanza del rapporto solidario con l'insieme delle classi popolari dello Stato ma dentro il movimento per l'emancipazione nazionale non dal di fuori e questa è la differenza con qualche compagno di Podemos, Izquierda Unida eccetera perché è molto bravo difendere il diritto d'autodeterminazione a livello astratto ma dopo è molto importante ancora farlo a livello concreto e per finire e questo è proprio il dibattito vedremo cosa succede il 21 dicembre in ogni caso la crisi politica è molto profonda e credo che sia anche un'opportunità non soltanto per lottare per la Repubblica nella Catalogna ma anche per un processo costituente nella Catalogna e una dinamica anche ripubblicana e costituente nell'insieme dello Stato Spagnolo grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti